I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato presso gli imbarcaderi dei traghetti che collegano la Sicilia alla Calabria circa 30 kg di marijuana occultati a bordo di un'ambulanza, individuata nel corso dei controlli effettuati sugli automezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni. L'operazione è stata eseguita nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di controllo con l'ausilio anche dei cani antidroga della sezione cinofili del medesimo reparto. In tale ambito, i militari del reparto peloritano venivano attratti dall'atteggiamento del cane antidroga Gimli, altamente specializzato in operazioni della specie che fiutava qualcosa di sospetto. L'intuizione veniva quindi confermata dall'ispezione del mezzo di soccorso che, invece di trasportare bisognevoli di assistenza, come all'apparenza poteva sembrare, occultava al suo interno la stupefacente sorpresa. Oltre 50 confezioni di marijuana per un totale di circa 30 kg. La droga, pronta per invadere il fiorente mercato siciliano, avrebbe potuto fruttare, alla vendita al dettaglio, illeciti guadagni per circa 300.000 euro. Il guidatore, MF classe 81, messinese residente nel quartiere di Santa Lucia, veniva quindi tratto in arresto in flagranza di reato e successivamente sottoposto, con anche il complice del traffico, FG classe 75. Anche gli messinese, residente nel rione Aldisio, a custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.